Benvenuti a tutti in un nuovo video della FTB Infinity E oggi in questo contesto avevo già preparato un paio di cosette Tipo dove andrò a scavare, ho già preparato un mezzopone Dove andrò a salire, perché salirò pure Non mi fate queste domande perché, perché vabbè, non c'è un perché Ho preparato un paio di cose per la botania Ovvero questa qua E mi manca il fiorellino che ce l'ha, quindi devo farmi un attimo una qualche arma Una sorta di arma Quindi, il signore tra poco mi impugnerà male Allora, questo video, questo video, questo video Questo qua Questa cosa che è? Eh, special ability No, faccio questo qua Ma da solo 7 Lo butteremo giù di sicuro Quanto danno fanno questi cosettini, giusto per sapere? Un cuore Corri, corri, corri Ah, da morire Ho fatto Creeper Ah, va, va, va Andate le targo giù il Creeper Che ci va bene E noi mettiamo qua un po' di D Esatto Allora Siccome abbiamo un po' di roba da togliere qua Togliamola E ce la portiamo dentro in casa Beh, la porta che l'ho messa al contrario Va bene Ehm Whirlflower Whirlflower No, questo qua è un po' di botane Ok Ok Mi so di aver raccolto qualcosa da botane La cosa che ho raccolto Punto Che ho detto? No, ho detto che l'ho raccolto Allora, lei Mi diventi un pedistallo Grazie Poi, poi, poi Poi, poi, poi Poi, poi L'ho dato fuori Allora, per fare un Daisy Daisy, Daisy Eh, basta che cerco qua Un Daisy devo fare Pure Daisy Non credo sia questo a modo White Petal No, alcuni bianchi Mmm, ovviamente no Fare quelli bianchi Ma che se Io che faccio quelli bianchi Ah Senti, è un po' questo Sapete già cosa ho visto, vero? Muori Dammi quel cappello Dammi quel cappello Oh A posto Ora sì che sono una persona felice Plot Io non sono dovuto aver visto i fiorini bianchi I bianchi Sì, sono bianchi Però non sono quelli che cercavo Grazie Grazie Ok, adesso posso fare i peori Daisy Perché fare i peori Daisy? Perché voglio fare i... Esatto Questo si sta ascoltando la musica Io dove sto andando? Di qua dove andò Già che ci dimentichiamo dove è casa nostra Stiamo messi bene Poi perché parlo al plurale Se sono io che mi dimentico le cose Ah Allora Allora Lei Tenga 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 Ora Elabora 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 Aspetta Ah sì Sembrava tipo l'attacco di un Pokémon Non lo so Boh Non mi ricordo se questo fiore Lavora anche con la cobblestone Ti va bene la cobblestone? Quindi sì perché non c'ho voglia di farla diventare stone Noi 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 facciamo la diventare stone Se magari va Non la facciamo più diventare stone Qua poi è la Steve Steve workshop Ci ho fatto un paio di upgrade in più Ovvero quello di Fare Io ho messo solo Semplicemente una fornace E una crafting table Niente di che Per adesso va bene Ma appena riusciamo Facciamo anche la 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 Come si chiama? Eh Bisogna dimenticare la noma A posto La tinker ecco La pronaccia di tinker Giusto perché Almeno posso Duplicare i miei oggetti E per un po' Questo cosettino Andrà in disuso Perché Duplicherò con l'altro Poi appena riesco Cerco di duplicarlo Cioè Automatizzerò Questa fornace qua Per poi cambiarlo E poi cambiarlo un'altra volta Allora Tu non va bene Abbiamo capito Sì sì Blablab Infatti qua Partono già i partili A mille Per chi vuole La traduzione Dei partili Vabbè La traduzione Sarebbe Sti caghetini Qua bianchi Che è scavato Da Cobblestone Allora Facciamoci un letto Ho piantato Yampseed Solo per questo Per ora Allora Perché effettivamente Gli ho trovato Un'utilità Prima per me Non ce l'avevo Un'utilità Sti cose Allora Se ne impieziamo tre Ci dà un filo E me ne manca uno Un managgio Arping C'è un osso Non c'è un osso Scusi Devo fare un attimo Devo fare un attimo Devo fare un attimo Tenga qua Tenga qua Grazie No Cavomissare Grazie 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 Scheletro 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 Non è ancora diventato Living wood Living rock Ah beh Prendiamo la sand Questo è un dilemma Ok Si è trasformato In Living stone Come faccio a capire Che si è trasformato Ho sentito un blocco Che si rompeva a caso Eh appunto Moriamo un creeper E spode E venissimo Troppo il buco Tadà Togliamo il fiore Perché non so se scompare Un metodo Per non far scomparire i fiori È quello di metterlo E toglierlo Quello Vi assicuro Che funziona Allora Dovevo fare Dovevo fare Ah si Praticamente 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 Uno e due E il terzo Incomodo È qua Eccolo qua Scusi Lei vuole crescere Grazie Grazie Racconto Tadà Via Ok Adesso che ci abbiamo Tutte e tre Allegramente Facciamo una cosa simpatica Pago tanto Però è simpatica Parapap E Parapap Almeno ci abbiamo letto La Carpenter Che è più bellina Di quello A base Lo piazziamo Lo piazziamo Qua sopra Qua Non posso piazzare L'operare Era bello Operare Dai Lo piazziamo Qua Poi lo coloriamo Vabbè Per ora Ce lo teniamo così Io stavo Pensando Stavo pensando Se iniziassi a minare Qua sotto Almeno Che Almeno Talve Eh Sì Mi piace molto Il suo colore Però Non mi piace Il fatto Di come Mi stavo guardando Triste Sembrava un po' Depresso Lo vedo Giù Di morale Infatti È caduto Giù Di morale Allora Living Rock Ce la chiama Ce la chiamiamo Tutta Allora Quindi Per fare La nostra Base Della botania Opterei Per Mettere a cucinare Un po' Di cobblestone E nel frattempo Noi andiamo a fare Un po' Di 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 Questo Così 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 Totalmente Utile E neanche Totalmente Inutile Quindi Ci sto Allora I seed Ho detto che Li voglio fuori Non li voglio dentro Sì Ok Fertisa Pure fuori Perché Se no Mi riempiono Case di seed Sto a posto Dopo Faccio festa Vabbè Ora It's time to dig Digging the hole Digging the hole Digging the hole Digging the hole Questi qua Sembrava Mettere adesso Di sottofondo Anzi Sapete che Vi dico Ammetto proprio Di sottofondo Allora Aspettate Aspettate Ancora Mannaggia No Togliti Ah Ermatur Fendol E Meglio che Non la canto Io Perché Se no Scappate Tutti Dicchi 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 Ok Mentre Registro Prendo Mi metto la canzone Così A caso E siamo a posto Allora Allora Qui che altro Sto scavando Per cercare Ferro Lava Basta Quindi Quindi Per ora Non scaverò I miei Dali E mi faccio Un altro Piccone Soprattutto La parte Di un altro Piccone È quella Che mi interessa Di più Dicchi H Che mi interessa Vai Vedete se ci fate caso Adesso sta iniziando a scavare più velocemente Poi magari boh è una mia impressione Però a me sembra che stia scavando più veloce Perché poi ho spostato le torce Per questo motivo qua Wow Che strigone di rima è questa Pezzelline di torce senza cliccare Senza metterle E' questa qua per la tinker Ok no fammi abbassare il volume Sennò non sento neanche quello che dico Magari voi lo sentite pure basso Però io lo sento altra Che cacchio XP Ma la faccio molto adesso Ma non è già me Secondo me la faccio E piazziamo la taccia qua Torniamo su Se non è notti Io mi faccio un altro po' di legna Per il semplice fatto Che ho bisogno di un'altra tool Tool station Tanto qua i alberi li ho pentati Non è un problema Ah a parte Ora che ci penso Siccome un po' il raffreddore Mi è passato Ma giusto un po' mi è passato No 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 Siccome Simon mi ha detto di salutarlo E l'ho salutato Ah ah Però non c'ho tutto Il raffreddore dell'altro ieri Perché il video di primo L'ho registrato ieri Cioè il 7 Questo qua lo sto registrando stamattina Alle 10 e mezzo Allora Andiamo Posso piantarlo sulla gravel Cattiva gravel Non si fa Non si fa Io mi ricordo Che se cliccavo col destro Mi toglieva le cose Perché non me le prende Mannaggia Tutto grano metto Che è quello più rompiscato Però vabbè Almeno Almeno va Che quello che non andava Perché andando andando Non andava Allora 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 Devo fare quindi Crafting table Stick Ashptey Crafting E questa l'altra Full stage Vai Poi che più devo fare La cesta Magari è più di una Grazie Mi verrebbe da tirare un po' Ma io Vita I am a dwarf Poi vi farò vedere Che c'è una Cosa molto simpatica Che con una mela E con una cobblestone Facciamo un blocco Della open blocks Questo lo utilizzeremo Più avanti Perché adesso La cobblestone ci serve Praticamente Cosa fa questo blocchetto? Così non fa nulla Se noi Facciamo shift Clicca tasto destro E ci mettiamo La cobblestone Vedete che adesso Nella texture C'è la cobblestone Praticamente Cosa fa questo blocco? Una volta che Noi raggiungiamo 63 blocchi di cobblestone Adesso vi faccio vedere Buttandolo per terra Adesso ne abbiamo 64 e 52 Se la butto per terra E la raccollo Ne abbiamo solo 64 Non i 52 di prima Perché questa cosa? Perché praticamente Cancella la cobblestone In accesso Siccome noi abbiamo Selezionato la cobblestone E questa cosa funziona Con la dirt E con la Leatherack Mi pare Però la mettiamo qua Magari ce la ricordiamo Magari Speriamo E Questa cosa La uso molto Per il fatto Della cobblestone Non la ho troppa Non la ho troppa Poco ci posso fare Allora Torce Non ne voglio Ne faccio C'era Del charcoal Qua sotto Charcoal Ma che chiama Charmine Eccolo qua E vabbè E vabbè Alluminio pure Buono Mi stavo giusto Chiedendo se ci fosse Perché mi serve pure Questo qua Ah no È vero È obsidian Iron E Alluminio Che mi serve a me Quindi Non cerchiamo Queste tre cose Non cercheremo Obsidian Ma nella vita Lo so Però Cerchiamo La lava Con la quale Faremo poi Ovviamente La cosa L'obsidian In modi Che sono pochi Conoscono Che poi vi farò vedere Non vi dico nulla Tanto se avete visto Le live che facevo Con la mansione Avete visto Come l'ho fatta io Cioè Non è che Passiamo dai mezzi Cioè ci facciamo Ci facciamo piccola Di bronzo Ci facciamo piccola Di iron Ci facciamo piccola Di qualora Facciamo piccola Di pietra Poi facciamo subito Il piccola più forte Dell'overworld Massimo Se poi cambiamo Facciamo il piccola In cobalto Giusto perché Noi possiamo Manco morto No in realtà Dovrei fare così Cioè faccio così Però Poi vediamo Eh ma tu D'altro perché Non ne vedo l'utilità Di fare anche Quell'altro Intermedio Tanto poi Lo dovrei buttare Quindi preferisco Farne uno solo E basta Eh vabbè Tinker Non facciamo Questa cosa in video Grazie Prende qua Vabbè vabbè Non dico nulla Io così quasi Sapete che vi dico Continuo Off camera Scavare fino a livello Zero Cioè Livello uno Perché la bedrock Sta a livello zero E staccherebbe qua Uh iron Cercavo Giusto Mi sa Mi sa Che siamo Ci abbiamo anche Un dungeon Sotto Oppure Solo tanti mob E scusate Quindi Io Opterei Per tornare Su Raccogliere Anche Questi materiali Qua va Perché Copper Adesso Non lo cerchiamo Ce l'abbiamo Lo cerchiamo Dopo Non lo troveremo Mai Mai nella vita Proprio Mi ricordo A Kimbo Che cercava Disperatamente Nel Copper Mannaggia Ti dovediamo Gli smeraldi Piuttosto Di avere Cacchi di Copper Cuocciamo Un'altra volta Il pane Così che ci da Più cuori Cioè Più cosciotti E Diciamo che Per questa puntata Era tutto Quindi Alla prossima Ciao ciao A domani Anzi Paragio tutto Però Continuerò Non so Se off camera O in camera Boh Non lo so Ma vedo Ora indirizzo Video Lo carico E dopo Riregistro Un'altra volta Ciò vuoi di registrare Non è colpa mia Quindi A domani Ciao ciao